Salve a tutti, io mi chiamo Eugenio, ho 22 anni e abito a Desenziano del Garda. Appunto, io come lavoro, lavoro nella moda, soprattutto a New York, e viaggio spesso per lavoro, soprattutto stando a New York. Però, quando mi è successo l'ultima volta che nell'andare a New York avevo un volo Iberia, compagnia spagnola, con scala a Barcellona, ma da Milano, Barcellona, Barcellona a New York, ma arrivato a Barcellona mi hanno cancellato il volo. E appunto è stato un bel disguido, soprattutto se parliamo di viaggi di lavoro, quindi certe scadenze, puoi immaginare se è una cosa pagata, non è una vacanza, è una cosa diversa, è un disguido più grande. Quindi, appunto, io sono arrivato a Barcellona, mi hanno cancellato l'aereo, ho dovuto aspettare 24 ore, sono arrivato 24 ore dopo a New York, ho passato tutta la notte in cui mi hanno trovato una sistemazione, mi hanno ripreso un volo a spese della compagna Iberia, ma comunque un disguido grosso. Quindi ho cercato in rete, appunto, anche in base alle recensioni, e ho trovato Soccorso al Volo, che fosse una delle migliori appunto sul rimborso. Gli ho contattati, cosa hanno fatto per me? Hanno appunto chiesto come fosse la situazione, i codici del volo, tutto quanto, appunto, per testare che il disguido fosse vero, che fosse un loro problema che il volo ha cancellato e non appunto che l'abbia perso o altro. Una volta confermato questo, è stato compilato un modulo, appunto, sia per il liberatore che per tutto quanto, e ho ricevuto il rimborso. Il rimborso è di 500 euro, e appunto sono stato aiutato assolutamente senza parole da Soccorso al Volo, sono super felice di avervi contattato, e ovviamente a nessune spese non ho pagato nessuno, ho semplicemente dato i documenti dei miei voli del viaggio, dei miei ticket di volo, e tutto quanto, e loro mi hanno trovato la cosa che, il modulo che servisse, che fosse il migliore per le mie esigenze, e appunto il rimborso. Io non ho pagato nessuno, ho ricevuto i soldi, visto il disguido. Quindi, appunto, sono super soddisfatto. Consiglio a chiunque dovesse, per lavoro negli ultimi mesi, aver avuto problemi, e soprattutto per la situazione attuale, sicuramente qualcuno li ha avuti, quindi di contattarli. Ovviamente i tempi sono quelli che sono, però i soldi arrivano. Arriva tutto. Quindi spero di essere d'aiuto a chi, appunto, non sa cosa fare, non sa come muoversi in questi disguidi, soprattutto dovuto a cancellazione, non solo ritardi, ma soprattutto a cancellazione di voli. E grazie a tutti, buona giornata. Grazie a tutti.